Un caroso saluto a tutti voi radioascoltatori interconnesi, sono Lorenzo Polangeli e come tutti fine settimana parlerò di rugby. Ringrazio sempre il circuito RD a radio per lo spazio che mi consente per parlare e dialogare con voi di tutto quello che avviene nel mondo da Vallo Vale e qui in Italia. Le nostre nazionali azzurre in questo momento sono in pausa per ritrovarsi nel periodo fine gennaio per poter poi organizzarsi e partecipare al torneo delle nazioni, in questo caso sia la nazionale azzurra maschile che quella femminile. Ci saranno anche delle attività per quanto riguardano i nazionali giovanili ma questo poi ne parleremo appena arriverà il periodo primaverile. Andiamo invece adesso a parlare di quello che è accaduto in questo fine settimana che ha visto le due nostre franchigie delle Zebbre e di Treviso disputare la seconda giornata del torneo Europe Challenge Cup. Avevamo rimasti che le Zebbre avevano quasi sfiorato una vittoria in casa contro Dolone aggiungendo un punto in classifica come miglior difesa e purtroppo il Treviso che aveva disputato una partita abbastanza negativa in Francia contro Stade di Francia. Questo fine settimana invece per quanto riguarda il Treviso c'è stato un ribaltamento, una vittoria molto bella fuori di casa sempre in Francia contro il Bayonne, una vittoria rotondeggiante con un 45 a 7 che ha visto sempre il Treviso avanti col punteggio e sempre con un dominio sia territoriale ma sia soprattutto per quanto riguarda il mantenimento del gioco e il possesso della valla che gli ha consentito diverse volte andare a meta. Un rotondo 45 a 7 che fa ben sperare per il prosieguo di questa Coppa. Mentre purtroppo le Zebbre sono andate in Inghilterra a sfidare la squadra del club di Bristol Bears e dopo un primo tempo ricco di errori matornali, in questo caso due mete veramente regalate di cui una veramente assurda ma in una forma di poca concentrazione, poca attitudine proprio nel mantenimento della palla in certe dinamiche di possesso della palla in zone un po' delicate come i 10 metri, hanno permesso ai Bristol Myers di portarsi avanti. Anche se poi le Zebbre hanno cercato di ricucire questo infortunio non si è riuscito a mantenere quella concentrazione facendo ancora altri errori permettendo poi a Bristol by Bristol di chiudere un primo tempio in avanti col punteggio. Anche se poi al secondo tempo le Zebbre hanno tentato di recuperare la partita e ormai il divario era stato abbastanza netto nel primo tempo che non ha permesso alle Zebbre di poter arrivare almeno al punto difensivo. La partita è terminata con un 35-19 che non ha dato possibilità alle Zebbre di poter ambire a nessun punto. Ora il campionato di Europe Cup Challenge si ferma, riprende il campionato di United Arab Championships e ripetrà nel mese di fine gennaio di nuovo il torneo europeo, le nostre franchigie che dovranno disputare il ritorno delle gare che hanno disputato in questo periodo. Poi vi spiegherò e vi darò tutte le indicazioni. Per quanto riguarda gli United Arab Championships il periodo di Natale vede sempre da diversi anni i derby tra le due nostre franchigie. Quindi ci sarà il derby tra il Treviso e le Zebbre il 24 dicembre alle ore 13.70 quindi avremo questa partita all'una e mezza il giorno di 24 dicembre e il 31 sempre di sabato alla stessa ora invece sarà il Treviso che andrà a Parma contro le Zebbre. Quindi Treviso e Zebbre il 24 dicembre e Zebbre e Treviso invece il 31 dicembre. Ovviamente è benentore un Treviso. Saranno due partite, se spero, piacevole da vedere. Speriamo che Treviso, per chi tiene Treviso, possa conquistare i 10 punti disponibili ma anche le Zebbre che invece possano recuperare e riprendere un qualche punteggio per smuovere un po' la classifica che le vede in ultima posizione. Le partite saranno trasmesse in diretta sul canale e la piattaforma Eurosport e quindi ripeto, 24 dicembre, ore 13 settembre, benetton Treviso, Zebbre. Poi c'è disputato l'ultima giornata per quanto riguarda il girone di andata del campionato top 10. I risultati che sono venuti fuori da questa giornata hanno consentito a Patova di riprendere il primo posto in classifica e di diventare campione d'inverno. Questo perché la partita regina del girone, il colorno contro Rovigo, ha visto il Rovigo vincere fuori casa con una vittoria corsara a 30 a 13 e ribaltare un po' le prospettive di un colorno che era prima in classifica e eventualmente con una vittoria su Rovigo poteva ipotecare il titolo d'inverno. Invece Rovigo ha giocato meglio, ma ha voluto questa vittoria, soprattutto nel secondo tempo cambiando radicalmente l'andamento della gara, essendo più offensivo, più determinato, meno indisciplinato e ha potuto consentire a Rovigo di rientrare, non solo di vincere a colorno, ma di rientrare anche in classifica perché riaggancia il terzetto della classifica per posizionarsi a un quarto posto. Le altre gare hanno visto il Patova vincere 29 a 21 contro la Fiamme Oro, Fiamme Oro che come ho detto in precedenza, anche se esce sconfitta da regare contro le prime, però da sempre filo da torce, Reggio Emilia che vince abbastanza, anche lui difficilmente contro un Viadana che in ultime giornate ha dato da filo da torcere di nuovo anche alle squadre di prima classifica e un Calvisano che ritorna alla vittoria per 31 a 3 contro Torino e infine una sorpresa per quanto riguarda il fondo della classifica, un Mogliano che riesce a vincere con un 25 a 10 contro un Piacenza che in questo momento praticamente dà la possibilità al Mogliano di riprendere il fiato e di staccare Torino in ultimo posto della classifica, quindi la classifica avete Patova primo, il Reggio secondo, Colonna terzo, anzi sono secondi a pari medio, il Rovigo terzo con 31 punti, le Fiamme 27 e il Calvisano che con questa vittoria si muove un po' la classifica e stacca poi quel quartetto finale di Adana, Piacenza, Mogliano e Torino che fanno parte della parte bassa della classifica. Ora il campionato ha uno stop, uno stop non solo per quanto riguarda le feste ma anche per recuperare un pochino e riprenderà il 15 di gennaio. Anche il campionato femminile ha avuto la sua giornata, continua la marcia a trionfare il Val Sugara che vince tranquillamente la sua gara, mantiene Villorba e Colorno un secondo o terzo posto, dopodiché c'è Milano, c'è Torino, c'è la Capitolina, Treviso e Pariabaco, ultima in classifica. Detto questo, innanzitutto volevo ringraziarvi tutti voi che continuate ad ascoltarmi e ribadisco che la prossima settimana farò una puntata un po' con un resoconto generale dell'anno anche perché poi ci sarà solamente la partita tra le Zebra e Treviso per quanto riguarda l'attività agonistica e quindi riferiremo un po' le somme di quello che è stato un anno ribistico, cioè appunto di vista delle nostre nazionali ma sia anche dal punto di vista dei club e facciamo un po' un punto della situazione in generale. Allora ribadisco l'appuntamento tra Treviso e Zebra per quanto riguarda il campionato United Web Championships il 24 dicembre alle 13.30 in diretta sul canale Eurosport 2. Vi saluto a tutti, vi auguro un sereno e un santo Natale a tutti quanti, ci rivediamo la prossima settimana, a tutti voi un calorosissimo buon Natale.